Cari amiche e cari amici, grandissimo articolo di Francesco Lamentola, titolo Sottomessi dal totalitarismo della bontà. Senza dubbio vi sarete accorti che negli ultimi mesi vi è stata una crescita esponenziale dei messaggi televisivi di Teleton, Save the Children e altre pubblicità simili, le quali bombardano quotidianamente il telespettatore con immagini più o meno scioccanti di bambini denutriti, affetti da gravissime patologie genetiche, accompagnate dalle parole ultimative quasi minacciose di qualche signore vestito in camice bianco, dallo sguardo spiritato, aggressivo, che vi ricorda come la vita di quei bambini, la possibilità per essi di condurre un'esistenza migliore, dipende da voi, dalla vostra generosità, però subito, subito, immediatamente, senza perdere neanche un minuto. Lo stesso accade mentre siete al computer. State ascoltando un concerto di musica classica, vi state rilassando, Mozart, Albinoni, qualche video di YouTube. All'improvviso le note si interrompono e uno spot umanitario creativo e caritativo fa irruzione senza chiedere il permesso. E di nuovo ecco le immagini, quelle immagini raccapriccianti, anche adesso che siete al vostro tavolo di lavoro, come prima quando stavate pranzando di fronte al televisore acceso e credevate di potervi distrarre un po' con le vostre preoccupazioni guardando la centesima replica del Tenente Colombo o della signora in giallo. Perché questi sono i programmi meno peggiori di repliche originali TV di quasi mezzo secolo fa. Il resto è letteralmente spazzatura che i proprietari e gestori delle maggiori reti private hanno deciso di somministrarvi in questi mesi di reclusione forzata con 60 milioni di persone tappate in casa. Senza dubbio vi sarete chiesti ma come mai accade questo? Perché ci fanno vedere queste immagini? Ma questo va contro tutte le regole di mercato. Perché questa sensibilità bunista è in questo momento anche raddoppiata? Questo moltiplicato misericordismo bergogliano. Per cui, mentre nessuno, nello Stato, nella Chiesa, si degna mai di regalarti una parola di incoraggiamento, ma solo minacce di rappresaglia, se non starete alle regole, se non rispettarete il coprifuoco, eppure qualcuno ritiene cosa buona e giusta inondare il vostro immaginario con immagini traumatiche. Disperati appelli per la salvezza dei bambini stanno morendo, sono gravemente malati. Ma non è un po' strano tutto questo. Non è un po' strano. In un momento storico come questo, difficoltà economiche, difficoltà psicologiche, tutte le famiglie sono sottoposte a una martellante pubblicità di tipo filantropico. Eppure sappiamo bene che la pubblicità costa, costa molto cara. Ora, potremmo anche bere la versione secondo cui tutti quanti, e dunque anche le televisioni, sono diventati più sensibili ai problemi altrui, proprio perché le difficoltà ci mordono un po' più da vicino. Ma, poiché non viviamo nel paese di Biancaneve e Sette Nani, certe cose non è che ce le possano raccontare neanche per scherzo, perché resta il fatto che qualcuno sta investendo un mucchio di soldi per esortarci ad essere più buoni, nonostante siamo tutti spaventosamente impoveriti, impoveriti e segregati in casa, terrorizzati dal governo e da mass media, minacciati da sanzioni, se appena osiamo mettere fuori il naso senza una ragione più che valida. Ma potremmo credere che le varie forme di pubblicità filantropica sono disinteressate. Ma se fosse credibile che le televisioni sono delle società di beneficenza, senza scopo di lucro. Invece sappiamo che le televisioni costano e costano anche acquistarle, questo è il potere finanziario. E allora dobbiamo interrogarci, ma perché un potere così spietato, che non guarda in faccia a nessuno, come il potere finanziario, decide di destinare una quota significativa per predicare il Vangelo della bontà, apparentemente anche in perdita economica. Cosa vogliono? Cosa si ripromette di ottenere da una società già così terribilmente impoverita? Proprio grazie alle manovre speculative del potere finanziario e alle sue politiche usuraie. Ma forse spera che gli italiani disoccupati si tolgano il pane di bocca per fare offerte alle associazioni internazionali che si occupano dei bambini africani, dei nutriti sbrigati, dei bambini affetti da malattie genetiche. Ma filantropia molto poco probabile. Ci saranno anche persone generose, ma è evidente che le loro offerte non giustificano la spesa di chi acquista così ampi spazi pubblicitari per predicare la bontà. E sappiamo che la finanza guarda esclusivamente alla legge del profitto. detto in altra maniera, gli speculatori, gli usurai, non regalano niente a nessuno senza contare che essi non importa assolutamente nulla dei bambini denutriti, di quelli affamati. Gliene può importare tanto quanto gliene può importare delle formiche o degli scarafaggi. Vabbè, sorvoliamo sul fatto che queste pubblicità per ovvie ragioni non parlano mai del dramma dei bambini soppressi ancora prima di nascere attraverso l'aborto legalizzato. Vabbè, quelli si sa, non contano. Sono sei milioni oggi, ma non contano. E il clero sedicente cattolico si è adeguato a questo tacito patto scellerato. No, 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 mai parlare di aborto, mai parlare di ciò che divide, solo di quello che unisce. Ecco perché il signore vestito da Papa, che abita a casa Santa Marta, ritiene opportuno inserire nella sua agenda pasquale le pubbliche congratulazioni. Grande attenzione, caro Luca Casarini, grande stima da parte del Papa, grande disponibilità. Se ti serve qualcosa, io sono sempre qui disposto a collaborare. E intanto non rassicura i fedeli, neanche li benedici nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E' tanto peggio se per Pasqua viene negato ai fedeli perfino il conforto della Santa Messa e dell'Eucaristia. Soffoliamo anche sul fatto che i mass media, i telegiornali, i programmi approfondimento e così via, hanno già steso il silenzio presso che tombale sulle pagine brutte di Bibiano, Bibiano. Ma anche su quella storia che è nata lì, invaldenza. E anche delle cento e mille Bibiano che esistono in tutto il resto d'Italia. E' una perversa convergenza di interessi tra culture antifamiglia, psicologie ideologizzate e abberranti, una rete di amministrazioni locali, servizi sociali affamati di spartirsi la torta rappresentata da finanziamenti pubblici, per il traffico di bambini, il traffico degli affidi temporanei in prospettiva delle adozioni. Tutto, ovviamente, dopo aver strappato i piccoli alle loro famiglie d'origine, per mezzo di inganni, pressioni, menzogne e calugne, con la complicità di certi settori della magistratura preposti alla tutela dei minori. Ma guarda un po'. Lasciamo dunque perdere quel che non c'è in quegli spot pubblicitari sempre più insistenti, martellanti, invasivi. Limitiamoci a quello che c'è e chiediamoci ma a quale scopo? Ma perché? Abbiamo detto che la ricaduta economica in proporzione alla spesa senza dubbio non può essere che modesta. La grande finanza non fa mai niente per niente, ha sempre qualche forma di utile in testa e quindi non può non avere qualche forma di utile in testa. Ora, l'utile non è detto che sia misurabile solo e esclusivamente in termini economici, visto che stiamo parlando delle maggiori reti nazionali e proprietari di queste reti, gli sponsor, sempre riconducibili alla grande finanza internazionale, bramosa di mettere le mani su qualsiasi cosa. In questo caso, riteniamo che l'utile sia di tipo psicologico e va di pari passo con la manovra per far approvare al Parlamento il reato di odio, il reato di odio, un reato di opinione, una cosa assolutamente inedita, ma che fatta passare sotto le vesti di un moralismo nobilmente disinteressato, riesce a giustificare perfino la pretesa del potere di esercitare un controllo poliziesco sulla nostra mente. In altre parole, quei signori si prefiggono di creare un orizzonte psicologico tale per cui a un certo punto sarà semplicemente impossibile anche solamente pensare, addirittura sentire in maniera di forme dei loro piani e delle loro finalità, bisognerà ragionare come loro. Ci stanno lavorando da tempo, sempre servendosi di mass media, a livello più immediato, anche quello del linguaggio, perché si pensa, secondo le parole che si adoperano, che si parla di pandemia. Ecco, se si parla di pandemia, ad esempio, quando non c'è pandemia, si crea nell'immaginario collettivo la ferma convinzione che la pandemia esiste. E come? Ma siamo tutti esposti a un pericolo mortale, bisogna fare qualcosa, bisogna... prendete delle misure e ciò richiede e giustifiche alle più estreme misure di protezione della cittadinanza. Ora, come trovare il modo di imporre fino in fondo un simile totalitarismo mentale, se non sollecitando la compassione nei confronti di bambini denutriti, di bambini sofferenti? E una volta imposto un simile totalitarismo, ciascuno di noi sarà mentalmente non solo condizionato, ma programmato, proprio come fate con il computer, proprio come si istruisce un programma informatico, programmati per non avere una propria intelligenza, sensibilità, una propria volontà, ma per uniformarsi in tutte e per tutte i messaggi che riceveremo dall'esterno, sia indirettamente attraverso i mass media, sia direttamente dal governo, dalle banche, dalla magistratura, dalle istituzioni scolastiche e sanitarie. E così, come il potere ha trovato il modo di ottenere la massima obbedienza e automortificazione, inclusa la rinuncia alle libertà fondamentali utilizzando lo strumento del terrore circa la possibilità di contrarre una malattia mortale, così esso ha individuato in questo tipo di pubblicità il mezzo per aprirsi un varco nelle intelligenze, così da creare un misto di soggezione e senso di colpa, senso di colpa. In questo modo noi siamo responsabili. C'è un corpo di un bambino annegato sulla spiaggia, dopo un naufragio, di un barcone di migranti. Noi siamo i responsabili. Proprio come per l'emergenza del Covid-19, quante volte c'è stato ripetuto che non rispettare incondizionatamente le prescrizioni governative, anche le più assurdi, le più anticostituzionali, equivale, oltre a un reato penale, a una forma di egoismo. Sei un egoista. Devi rispettare le norme, ma non hai rispetto per gli altri. Non vivi in una società. Non pensi di poter infettare qualcuno e farlo morire. Non ci pensi a questo. Colpa, sei in colpa. Quante volte c'è stato detto che avvicinarsi a meno di un metro dal nostro prossimo, oppure voler partecipare alla messa, o fare quattro passi, prendere un po' d'aria, o far prendere un po' d'aria ai bambini, ai figli, ai nipotini. Quante volte c'è stato detto che questo è un grave reato, anche se questo non vale per il cane. No, per il cane, vabbè, per lì si può passeggiare. Ma tutto il resto è una forma di incoscienza. Se ti avvicini più di un metro, sei un pazzo. Stai minacciando la vita di quel poveraccio. È colpa tua, è sempre colpa tua. E la colpa, cari amici, è lo strumento di controllo più antico e anche il più efficace. A livello politico planetario, questo per caso, ma vi fa venire in mente qualcos'altro. Ma pensateci un po'. Aprite un libro di storia e a un certo punto vi sentite in colpa. Perché? Conoscete qualcuno che ha deciso di far sentire permanentemente in colpa tutti quanti a livello mondiale per quello che è successo nella storia del ventesimo secolo? Magari anche prima qualcuno così potente che è bene non fare neanche il nome per evitare di vedersi chiudere il sito informatico o il canale di YouTube. Neanche il nome. Neanche il nome. Qualcuno che da decenni ci mostra la foto di un bambino spaventato con le mani alzate davanti ai mitra spianati da alcuni soldati che si accingono ad arrestare lui e la sua famiglia. eppure nella storia del Novecento e in tutta la storia umana di comunità perseguitate, di bambini stritolati dal meccanismo perverso del potere. Ce ne sono state decine, decine, centinaia e centinaia di milioni. però quel bambino, solo quel bambino è il simbolo della innocenza perseguitata. E voi cosa stavate facendo? Voi siete idealmente deferiti al Tribunale della Bontà. Perché? Perché tuo nonno non si oppose? Perché i vostri nonni non si opposero con sufficiente energia a quegli eventi, facendosi in qualche modo corresponsabili di quella pagina nera. La colpa è loro e adesso la colpa è tua, è tua, sei colpa tua. Noi tutti, dunque, dobbiamo sentirci in colpa. Noi siamo in colpa. Per sempre! Anche se all'epoca non eravamo neanche nati. Ma sì, ma è una colpa che ricade su di noi, sui nostri discendenti. Così, come su un altro piano, ricade sui nascituri la colpa del debito pubblico italiano di altri paesi la cui economia risulta in disavanzo passivo. E quanto è stato usato quel senso di colpa? Quanto è stato usato dai paesi del nord Europa nei confronti di quelli del sud indebitati e perciò brutti, sporchi, cattivi, al punto di aver coniato per essi un acronimo spregiativo e razzista. Pigs! Pigs! Portogallo, Italia, Grecia, Spagna. Che, ovviamente, in inglese significa maiali, porci. L'idea è molto semplice. A suo modo è geniale. Se ti faccio sentire in colpa, ti getterà in ginocchio davanti a me. Potrò farti qualsiasi cosa, qualsiasi cosa mi passa per la testa. Tu sei il colpaiole. E allora, stiamo in guardia. Il totalitarismo della bontà apre la strada al totalitarismo globale e definitivo. Francesco, bravissimo, bravissimo. Ogni volta penso la mendola si è superato e riesci ancora una volta a superarti. Bravissimo, complimenti. Bene, cari amici e cari amici, se il video vi è piaciuto condividetelo. Anzi, questo è veramente importante da condividere. Così aiuterete anche il canale a crescere e farete anche conoscere Francesco la mendola, che come vedete è genio. E quindi un pollice su per il mio lavoro, sempre inchiodati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo Marco Cosmo